Per combattere i mostri, abbiamo creato dei mostri a nostra volta. Avevamo bisogno di una nuova arma. Nacque il programma Jäger. Due piloti. Le nostre menti, i nostri ricordi. Interconnessi. L'uomo e la macchina divennero una cosa sola. Oggi, sull'orlo della speranza. Alla fine del nostro tempo. Abbiamo deciso di credere gli uni negli altri. Oggi affronteremo i mostri che sono alle nostre porte. Oggi noi cancelleremo l'apocalisse!